Un caffè che vale espresso scende moca sale E loro sono stati in prima linea a portare questo metodo in Italia Cosa si può fare col marketing digitale e perché ormai questa è una sfida di tutte le aziende Insomma come fare a portare la genialità italiana che abbiamo a diventare più mercato Ad accelerare sul mercato senza subire il web e il digitale Che è un mondo per definizione globale ma diventandone protagonisti Vi aspetto fra un po' insieme al mio ospite per raccontarvi questa storia di successo italiano Un caffè che vale espresso scende moca sale Serve a farci avere quella marcia in più Un caffè che vale senza esagerare Serve a questa Italia per tenersi su Un caffè che vale rito nazionale È un caffè che vale grazie a te Eccoci pronti per un nuovo caffè Oggi parliamo di marketing Il marketing assume varie forme Ma soprattutto negli ultimi anni il marketing digitale è diventato centrale Molti destini delle aziende si realizzano fondamentalmente Si concretizzano in quello che è il mondo web Che chiaramente all'interno ti fa trovare di tutto E noi però come nello stile di un caffè che vale andiamo a cercare le cose Che in qualche modo destano maggiore interesse Che hanno già dimostrato anche di produrre dei risultati tangibili È in collegamento con me da San Marino Alessandro Bentivoglio Ben trovato Alessandro Ciao Piero Grazie per questa possibilità Alessandro è co-founder di funnelcompany.com Che è un'agenzia e un'impresa Che si è specializzata proprio nel funnel E nel sistema legato al concetto di funnel È un termine inglese Quindi partiamo da qui Spieghiamolo in italiano Che cos'è esattamente il funnel Alessandro E perché si sta dimostrando così importante Per chi vuole proporsi utilizzando le leve del web Allora guarda Il funnel viene normalmente rappresentato Se lo cerchiamo su Google Come un imbuto Quindi è la traduzione dall'inglese è l'imbuto Perché se cerchiamo funnel marketing Viene proprio rappresentato questo imbuto Con diverse fasce colorate Non so L'avrai sicuramente visto online Che rappresentano le fasi In cui passa l'utente nel mondo online Cioè nel percorso di acquisto Quindi il funnel in realtà È un vero e proprio percorso Che fa l'utente Verso l'acquisto Quindi da utente che non ci conosce Sconosciuto di quello che facciamo noi Chiaramente quella che è l'offerta dell'azienda Fino a diventare un cliente dell'azienda Chiaramente nella parte alta Ci sono più persone che non ci conoscono Per arrivare alla fine del funnel Che sono i clienti Che sono fidelizzati e ci conoscono A noi piace però rappresentare il funnel In modo diverso Attraverso degli schemi Perché in base agli obiettivi Ci sono diversi schemi Diverse tipologie di funnel Quindi non con questo schema di mutuo Ma in maniera diversa Facendo dei percorsi proprio specifici Per gli obiettivi dell'azienda Senti a volte si fa l'errore di pensare Che quello che andiamo a costruire Nel mondo web Sia distante e diverso Da quello che invece accade Nel mercato Io direi analogico Tradizionale E non è così invece no? Bravissimo Questo è uno degli errori Che vedo più spesso Con le aziende Perché magari creano Delle strategie di marketing offline Cioè prima Io ti faccio un esempio Insomma questo Quando si poteva ancora andare Fisicamente Adesso siamo un po' bloccati Ma andavo in una palestra Faccio un esempio E mi facevano un prezzo Andavo online Sul sito della palestra O su altre cose C'era un prezzo diverso Ecco L'online oggi deve rispettare Quella che è la strategia di marketing aziendale Non è che se vado online C'è un prezzo Se vado offline E quindi fisicamente C'è un'altra roba Quindi deve rispettare Quella che è Deve essere abbinato Questa strategia di marketing oggi Non è più una separata Dal business Ma è totalmente integrata Con quello che è La strategia di business Dell'azienda Bene Ci troviamo in questo E lo sai È una delle ragioni Per cui oggi ci stiamo parlando E stiamo attivando Anche queste sinergie tra di noi Perché io lo dico anche ai miei clienti Quando prospetto chiaramente La necessità Che ci mettano la faccia Che si raccontino Dico sempre Ricordati che la prima cosa Che oggi una persona fa Dopo averti conosciuto È andare a digitare Il tuo nome e cognome Sul web Per vedere chi sei E quindi se non ci sei È un problema Ancora peggio Se deleghi ad altri Il fatto di raccontare Chi è Alessandro Ben ti voglio Devi dominare in qualche modo E governare la tua presenza Sul web Soprattutto non ci puoi essere Esistono ancora aziende Che possono fare A meno del web Che possono sottovalutarlo Alessandro? Allora guarda Piero Oggi più che mai Internet È diventato fondamentale Per le aziende Lo sappiamo Cioè questa crisi Che abbiamo Vissuto E che ancora non abbiamo Insomma passato Ha cambiato in maniera permanente Le abitudini di tutti Quindi l'online È stato Diciamo in questo momento Il canale principale Di business Chi aveva Un canale online Chi era già strutturato Chi aveva un sistema Per trovare E raccogliere clienti Insomma Offrire propri servizi online In questo periodo È cresciuto I miei clienti Mi ringraziano Perché dice Grazie a A questo sistema Che abbiamo creato Sto fatturando Più di quanto Fatturavo prima Chi purtroppo Come puoi immaginare Ha solo la vetrina Su strada Oggi È stato un po' penalizzato Questo Sicuramente questa situazione Passerà Perché ritorneremo Ritorneremo in parte Alla normalità Cioè Alla gestione fisica No A poter andare In un negozio Però comunque L'online rimarrà Un canale importante Cioè Sono cambiate le abitudini Oggi In maniera Super accelerata Rispetto a quello Che erano un po' Le previsioni No Quindi Chi Non aveva mai Comprato online Si è visto Si è trovato Costretto Ad utilizzare Questo canale E raccontami Chi sono In qualche modo I vostri clienti Per tipologia Di prodotto Se vuoi anche Per età Per capire un attimino Quale mondo Si sta avvicinando a voi E Quali case history Avete già generato Di successo Che ci raccontano Di come si può Letteralmente Trasformare Che ne so L'attività Di chi fa Gelati Rispetto a quelli Che oggi Magari fanno Formazione O turbine O non so Cos'altro Bravissimo Cioè la tipologia Di business Su quello che facciamo Noi È assolutamente Ampia Lavoriamo Dal ristorante Dall'attività Locale Ad aziende Multinazionali Che vendono prodotti Da 500 mila euro B2B Abbiamo avuto successo In tutte queste situazioni Nel senso che Per il B2B E per il ristorante Per l'attività locale È molto semplice Perché il cliente Conosce già il prodotto Quindi basta creare Un'offerta ad hoc E portare persone All'interno Dell'attività locale Abbiamo avuto successo Anche con e-commerce Quindi con attività Di con vendita Di prodotti fisici Creando delle situazioni Ti faccio un esempio Di un nostro cliente Che aveva paura Aveva speso Tu pensa 50 mila euro Per la creazione Di un e-commerce Con tutto poi L'investimento pubblicitario E così via In sei mesi Aveva generato zero clienti Perché? Perché oggi investiamo Su quello che è La creazione del negozio Ma questo è quello Che fanno le start-up Le aziende Cioè io creo il prodotto Ma poi mi scordo Di dedicare un budget Al marketing E quindi rimango fermo Negozio vuoto Ok? Oggi ragazzi È molto più importante Il budget di marketing Che purtroppo Il prodotto fisico Ti faccio un esempio Quante aziende Conosci Che sono eccellenti Nel mondo Cioè sono famose Nel mondo Ma non hanno Il prodotto migliore Al mondo Ok? Ce ne sono tante E per esempio In questo caso Dell'e-commerce Noi abbiamo aiutato Questo imprenditore A rivoluzionare A trasformare L'azienda Perché lui aveva L'e-commerce Aveva finito budget E non aveva Una strategia di marketing Creando una strategia Di marketing Lui è riuscito A fare migliaia Di nuovi clienti Dico solo Che lui aveva paura Di spendere 10 euro al giorno Su facebook È arrivato Grazie alla creazione Della macchina È arrivato a investire 1000 euro al giorno Su facebook Per vendita I prodotti alimentari A domicilio Per corrispondenza Abbiamo avuto successo Anche con prodotti Stampanti Di grande formato Da 400 mila euro L'una Semplicemente Perché chiaramente Si va a creare Il pubblico Si crea una strategia Si ragiona Quello che voglio dire È che noi ragioniamo Su un marketing Orientato ai risultati Non è un marketing Di presenza È la presenza Contro il sistema Cioè La maggior parte Di chi fa web Ragiona sulla presenza Cioè Una bella presenza Un posizionamento Insomma Una bella comunicazione Che sono tutte cose Che servono Assolutamente Ma poi bisogna avere in mente Gli obiettivi Cioè Perché sto facendo questo lavoro Qual è il mio obiettivo E devo avere un sistema Che mi permette Di monitorare Il mio obiettivo E quindi creare una macchina Che con dei numeri Mi dà dei risultati Alessandro Siete in grado Di valutare E di affiancare il cliente In quella fase Molto delicata In cui bisogna capire Se ci sono chance vere Cioè Gli pianificate un percorso Ma siete in grado anche Di stimare In qualche modo I risultati Arrivate persino A sconsigliarlo Se il modello di business Che valutate Insieme a lui Nella fase di analisi Non si rivela così importante Come qualche volta L'imprenditore stesso Immagina Allora Chiaramente Questo è un aspetto Molto importante Perché c'è chi magari Dice Non esiste una bacchetta magica Una sfera di cristallo Perché molti Fanno facilmente Promesse Di grandi risultati E così via Noi andiamo a creare Un sistema numerico Quindi Chi ci può dire Se questa cosa funziona o meno È solo il mercato Perché magari io Non sono in target Con quell'azienda Con quel prodotto E quindi c'è da testare Ma quello che andiamo a creare E questo è l'aspetto più importante Cioè noi diamo all'azienda Uno strumento Per capire Se quello che sta facendo Funziona O non funziona E se non funziona Cioè anche il fatto Di ottenere zero vendita È un risultato Che sembra strano Però ci dice Che quella cosa Che stiamo facendo Non va bene Dobbiamo cambiarla leggermente Quindi normalmente Quando noi facciamo marketing Non sappiamo Se non funziona Dove andare ad intervenire Creando un sistema del genere E noi sappiamo Cosa non ha funzionato Diciamo Analizzando il processo D'acquisto del cliente E andare ad intervenire E andiamo ad intervenire Su quel punto Per migliorare Quindi si ottimizza la macchina Alessandro aiutiamo Chi ci segue da casa A capire cosa vuol dire Tu stai usando più volte La parola sistema In che modo lo create Fammi qualche esempio Da dove partite E magari anche partendo Da una case history Se vuoi Delle ultime Che avete portato al successo Per capire in che modo Create una progressione Che mette l'imprenditore Di incoraggiarsi E di dire Ok Sto producendo Sto vendendo Sta funzionando la mia idea Posso investire ancora di più In questo driver Perché poi Evidentemente Il funnel marketing Non lo fai One shot Una volta sola Insomma lo fai Più volte nel tempo No? Assolutamente Allora Questa è una cosa corretta Nel senso È un'attività costante Non è come Dice Vabbè Faccio un sito L'ho fatto Bello Sta lì Il funnel marketing È un'attività costante Di ottimizzazione Di costruzione Di creazione Di altri elementi All'interno della macchina Per rispondere alla tua domanda Dobbiamo analizzare Quello che è il percorso Del processo Che fa l'utente Verso l'acquisto Quindi abbiamo Top of the funnel Quindi la parte frontale Middle of the funnel Back of the funnel Quindi tofu Mofu Bofu Non so se hai mai sentito Queste parolacce Che non so Quello tofu Che si mangia Ma perché dobbiamo fare questa Cioè dobbiamo avere questa chiarezza Del percorso Perché dobbiamo andare a creare Dei contenuti Per ogni singolo passaggio Quindi Il primo step Che si fa È andare A creare un qualcosa Che dà consapevolezza Al nostro utente Ti faccio un esempio Noi abbiamo creato Un funnel Un funnel È fatto da pagine Pagine web Come se fosse un sito Quindi voglio dire Non c'è differenza Così visivamente È una pagina web L'unica cosa È che abbiamo Una call to action Cioè un'azione Che possiamo fare Quindi il primo step Su cui lavorare Noi abbiamo creato Un funnel Con tre video Dove andiamo a spiegare Alle aziende Cos'è il funnel marketing E quali sono i benefici Che porta questa strategia È un primo funnel Di informazione Di consapevolezza Dopodiché C'è un secondo funnel Collegato Che dice Guarda Se hai visto Tutti e tre i video E sei interessato Sei in target Hai queste caratteristiche Entra In quest'altro funnel Cioè clicca qui Per richiedere Una consulenza Richiedere maggiori informazioni E così si crea Tutto il processo Di Diciamo Proprio Di funnel Che porta l'utente Ad una maggiore consapevolezza Ma si parte sempre Dalla Dall'informazione Del nostro cliente Perché molto spesso Il nostro cliente Non sa neanche Di avere un problema E noi gli vogliamo Vendere un prodotto Ok Ma lui non sa neanche Perché deve Comprare O ha bisogno Di quel prodotto là Quindi dobbiamo aiutarlo In questa In questa sua Diciamo Flusso di consapevolezza Senti Qual è la fatica Più grande Che fate Nel vendere Un prodotto Come questo La difficoltà Che riscontrate Nel cliente A capire Questa metodologia Quindi Le domande Più più importanti Che il cliente Vi gira Come le risolvete E come lo portate Dentro un percorso Ecco I primi step Cerchiamo di aiutare Chi sta a casa Di capire In che modo Potrebbe fare Un percorso Insieme a voi E quali sarebbero I primi step Che deve affrontare Ok Allora Noi abbiamo creato Un modello Di business Diverso da quello Che c'è oggi Sul mercato Nel senso che Oggi sono due Principali entità Cioè Faccio formazione Quindi Ti vieni lì In aula Online Ti formo Ti spiego Quello che devi fare Due Secondo modello di business E chi fa per te Quindi La web agency Io vado alla web agency Pago Delego al 100% E ho un prodotto Noi Non facciamo Diciamo Siamo al centro Di questi due elementi Cioè Facciamo sì Formazione Ma non facciamo Delega al 100% Facciamo accompagnamento Cioè Il modello centrale Oggi Ed è quello che funziona È l'accompagnamento Perché Come dicevi tu Qual è il problema Più grande Che si incontra Diciamo O la domanda I dubbi più importanti Cioè Sono quelli di far capire All'imprenditore Che il marketing Non è un'attività esterna All'azienda Ma è È come avere le chiavi Dell'azienda Quindi se una web agency Fosse stata così brava A trovare clienti E a mandare avanti Il tuo business Avrebbe aperto il tuo business Mentre il marketing È una competenza Che oggi Non può mancare Nella Diciamo Cassetta degli attrezzi Dell'imprenditore Dell'imprenditore Come non può mancare La contabilità Come quando A fine anno In questo periodo Magari facciamo il budget Del 2021 Ecco Ragazzi Le aziende Crescendo Internalizzano La gestione contabile La stessa cosa Bisogna fare con il marketing Quindi noi spingiamo Gli imprenditori Cioè partiamo dall'imprenditore Ci mettiamo seduti Con l'imprenditore E diciamo Ok Se vuoi raggiungere Questi obiettivi Creiamo una strategia Dopodiché hai bisogno Di una persona Che ti affianca Questa persona Che sarà all'interno Dell'azienda Noi la formiamo Quindi noi andiamo A formare Sia l'imprenditore Che il team Del dipartimento marketing Per andare a lavorare E creare poi Il sistema di marketing Dell'azienda Quindi non lo facciamo Noi esternamente Ma affianchiamo L'azienda In questo percorso Che dura Anni Perché comunque È sempre in evoluzione Normalmente È un'operazione Che funziona Cioè che raggiunge Successo In che tempi Ecco dammi qualche elemento Di esperienza Che avete fatto Magari tra imprese piccole Anche micro Anche start up E imprese invece Più grandi Allora guarda Questo dipende molto Dal tempo di acquisto Del cliente Perché è normale Che se io devo vendere Una cena Faccio un esempio Un'offerta per una cena Al ristorante Ci metto poco Per decidere No vabbè Dai andiamo in questo ristorante Tanto insomma Lo andiamo a provare Se invece devo fare Un investimento Da 400 mila euro Magari ci metto Un po' di più Quindi per quanto riguarda Dipende dalla tipologia Di attività Noi normalmente Lavoriamo su un range Minimo di un anno E per creare Perché ci permette Di creare un po' Tutti gli elementi Del sistema Che richiede comunque tempo È che allora Il ristorante Ottiene risultati Nell'arco di poche settimane Chi vende prodotti B2B Ai ticket Magari ci mette Sei mesi Un anno Per ottenere il risultato Però poi Viene ripagato Tutto quello che Chiaramente è stato fatto Quali sono i problemi Più importanti Che riscontrate Quando andate a fare Un percorso di questo tipo Col cliente Cioè Di cosa manca Il cliente Per essere compatibile Con un percorso Come quello Che voi gli proponete Prima di tutto Il mindset Perché Cioè Capire che Il marketing È una cosa mia È una cosa Del business Perché oggi Purtroppo Nessuno ha mai insegnato All'imprenditore Questa nuova visione Del marketing No Perché si lavorava Comunque molto offline Quindi Questa mentalità Questo approccio Verso il marketing online Altro aspetto fondamentale L'internalizzazione Di queste competenze Sia come persona Sia come azienda E quindi Il team di marketing E poi dopo Chiaramente Mettere in pratica Tutte queste cose Dal copy Dalla creazione Cioè Noi formiamo le aziende A fare in pratica Cioè Abbiamo degli eventi Dove le persone Vengono col computer E creiamo insieme La strategia Le persone escono Dall'evento Con il funnel pronto E lanciato online E in tutto questo processo Chiaramente è importante Cioè Formiamo le persone Sull'utilizzo Di strumenti Che oggi ci permettono Di Non aver Il bisogno Di competenze Tecniche Ma pronte All'uso Dopodiché bisogna Generare contenuti Quindi creazione Di video Sicuramente Che è la seconda Paura Dopo La paura Di morire E qui bisogna Magari fare Qualche video Scrivere Scrivere del copy La possibilità Scrivere del copy Di cliente Proprio per Proprio per Per questa Per questa caratteristica Che utilizzata Che utilizzate Intanto si accorre E intanto ti chiedo Perché in questo caso Dipendiamo Uso volutamente Provocatoriamente Questo termine Dall'estero Dagli americani in termini di terminologia e anche di metodologia, oltre che dei software che sono alla base del vostro metodo. Perché avete fatto questa scelta Alessandro? Beh questa scelta nasce proprio dal fatto che tutta, diciamo, funnel company, azienda, il nostro metodo nasce dall'America perché da questa esperienza che abbiamo fatto io e Michele andando in America dove ci si è aperto un mondo grazie a queste nuove strategie e tecnologie che c'erano lì. A quel punto abbiamo deciso di importarle in Europa, testarle prima sui nostri business e una volta avuto successo sui nostri business demandarle, cioè iniziare ad aiutare anche altre aziende, altri imprenditori che avevano i nostri stessi problemi, cioè quelli di non ottenere risultati dal marketing e non capire qual era il percorso da seguire per creare un sistema orientato ai risultati. E questo che vedete qui alle mie spalle è uno dei premi che ci è stato dato sul palco di questi eventi americani di fronte a 5-6 mila persone e proprio questo premio qua nello specifico è per aver fatturato oltre un milione di dollari con un solo funnel e questo noi l'abbiamo ottenuto su di noi ma anche grazie chiaramente al lavoro fatto con i nostri clienti. Quindi viene misurato, quando dici un solo funnel significa su un solo prodotto o comunque su una sola azienda per cui il match è proprio legato al fatto che lavori talmente bene su quell'azienda che la porti a fatturare un milione di euro partendo da zero? Partendo da quello che c'è, che poteva essere 100-200, il punto è la prendi a 200 e la porti a un milione di euro attraverso il buon utilizzo del metodo. Uno dei nostri migliori casi di successo è un'azienda nel mondo della consulenza, comunque nel mondo legale che è passata da 300 mila euro a 10 milioni di euro in un anno e mezzo. Utilizzando soprattutto questo metodo, o questo metodo viene abbinato poi ad altre azioni che gestite totalmente voi o in parte sono parte del sistema che l'imprenditore ha già? Beh sì, allora diciamo che chiaramente andiamo a vedere quello che fa l'imprenditore vediamo quello che c'è già in piedi e ci andiamo ad integrare non tocchiamo assolutamente la struttura che c'è anche se c'è già un team, un dipartimento marketing, un'agenzia, un qualcosa, ci integriamo è normale che dopo lavoriamo molto sull'acquisizione di nuovi clienti ma poi bisogna anche gestirli quindi creiamo anche dei processi, delle strategie di gestione dei contatti post marketing, post acquisizione e quindi tutto quello che è la lavorazione del processo commerciale l'analisi dei dati, KPI e così via insomma creiamo un sistema completo il nostro sistema è fatto da metodo, strumenti e persone questi sono i tre elementi che compongono il nostro metodo perché il metodo chiaramente è una semplificazione di tutto quello che sono le attività di marketing che bisogna fare dopo di che ci sono gli strumenti necessari per mettere in pratica e poi la persona che ti accompagna nell'utilizzo di tutto questo metodo Alessandro quanti anni hai tu oggi? Parliamo un po' di te perché sai il caffè prova sempre poi ad estrarre valore a capire come si costruisce il valore e a far capire anche che c'è una credibilità delle storie dentro la credibilità di un brand quindi come Alessandro arriva a fare questo lavoro insomma i tuoi primi passi quando entri in questo mondo e perché ci entri? Allora io ho 37 anni lavoro nel mondo dell'informatica da 20 anni circa e ho iniziato nel mondo del web proprio perché mi piaceva poter lavorare online e questo sono circa 15 anni sei tecnicamente un nativo digitale? esatto eh beh eh sì perché mio papà guarda mi ha messo davanti al computer quando avevo due anni perché anche lui lavorava nel mondo dell'informatica aveva attività nel mondo dell'informatica e quindi io sono nato già con questa passione dell'informatica quindi per me è molto diciamo viene proprio dalla nascita dalla base dai parlami di un po' di perché spesso si parla del successo e si nasconde quella parte invece è fantastica non a caso gli americani è una delle domande che fanno di più quando fanno anche le selezioni è raccontami quante volte hai fallito per arrivare sin qui a fare un'azienda di successo ecco quante volte hai fallito Alessandro tu prima di arrivare ad un'azienda che cominciasse a darti soddisfazione e hai detto abbiamo testato su di noi il metodo prima ma quanti fallimenti e soprattutto perché il perché di quei fallimenti? esatto proprio questo cioè molto spesso si guarda solo al risultato finale non si vede quello che è il percorso che poi è quello che ci forma e i fallimenti sono stati tantissimi sono tanti e costanti quelli che comunque a cui siamo sottoposti come imprenditori e alla fine il successo arriva con la costanza con la perseveranza con la determinazione con la passione e arriva arrivato diciamo negli ultimi anni perché comunque io ho sempre lavorato online sempre mi ricordi qualche errore capitale che hai commesso un po' di anni fa prima insomma di arrivare ai risultati qualche errore che ti è rimasto impresso cosa avevi sbagliato cosa non avevi considerato sì guarda io praticamente facevo l'errore classico che che era proprio quello di sì lavorare online senza però ragionare nel cioè sulla visione dell'azienda no? quindi magari facevo anche io siti web facevo magari delle attività online ma che non tenevano in considerazione minimamente quello che era il business per cui stavo lavorando quello che erano gli obiettivi e quindi automaticamente non c'era una strategia non c'erano dei risultati era semplicemente una roba buttata lì che non portava valore questo a me dava tantissimo fastidio cioè non mi piaceva lavorare così e non vedevo neanche non ero così poi stimolato no? perché quando uno fa qualcosa ha piacere che questo qualcosa sia apprezzato e porti risultati concreti ok? e quindi questo per me era molto importante cioè riuscire a portare sempre più risultati con cognizione di causa e questo è quello che mi ha spinto poi ad andare a cercare a ricercare delle soluzioni all'estero perché d'altra parte insomma qui in lingua italiana si faceva fatica quindi il fallimento è stato proprio quello di cioè fare un lavoro punto te lo consegno fine della storia ecco e questo portava gli imprenditori a fare un investimento sì effettivamente c'era un lavoro dietro ma poi non portava risultati una riflessione sull'approccio a volte molto italiano ancora abbastanza diffuso della tutologia faccio tutto io faccio in casa c'ho mia figlia che ha studiato comunicazione c'ho mio cugino che lavora al marketing c'ho il socio che è esperto di questo che è esperto di quello ecco resiste ancora questa mentalità o si comincia a capire in Italia che l'azienda è un organismo complesso e non sempre deve cercare la soluzione all'interno ma deve provare a cercarla anche nel mondo esterno laddove magari le competenze ci sono i percorsi sono già limpidi e precisi io vedo che questa mentalità nel mondo italiano è molto radicata è molto radicata come tutte le nostre tradizioni e così via questo è proprio diciamo il mio lavoro è proprio questo cioè quello con cui io combatto tutti i giorni è proprio far capire alle persone che bisogna affidarsi a dei professionisti cioè che ognuno fa il suo lavoro poi chi diciamo il cugino l'amico e così via affiancato dalle persone giuste può aiutare a portare risultati però bisogna investire cioè nel business ragazzi bisogna investire per ottenere risultati bisogna investire in formazione bisogna investire nelle persone giuste e anche saper valutare le persone giuste perché uno dice vabbè vengo scelgo la web agency oppure quante volte abbiamo sentito frase classica ho cambiato ho rifatto il sito per la quarta volta ma ancora non funziona ma ci sarà un qualcosa cioè molto spesso la responsabilità viene data sempre all'esterno cioè non ci assumiamo mai la responsabilità delle azioni che facciamo quindi io quello che dico è che la responsabilità è sempre al 50% questo cioè vale in ogni ambito in cui viviamo quindi se c'è qualcosa che non funziona se ho rifatto il sito per la quarta volta devo iniziare a farmi una domanda cioè cosa sto sbagliando perché non riesco a fare quella cosa nel momento in cui ci assumiamo la responsabilità cambia totalmente i risultati che otteniamo a proposito di cambiamento insomma siamo ancora dentro un momento pazzesco incredibile una pandemia qualcosa che nessuno si aspettava e che una volta di più evidentemente ha accelerato la necessità di cambiare è cambiato qualcosa in questo anno circa incredibile questo 20-20 che non dimenticheremo e si parla anche di accelerazione dentro il mondo digitale il fatto che siamo stati costretti un po' tutti anche quelli che avevano meno capacità verso questo mondo web di avvicinarsi di imparare gli strumenti di iniziare a fare call convention di usare i classici zoom e così via ecco qual è la lezione più grande che viene fuori da questo anno dal tuo punto di vista Alessandro allora bella domanda nel senso una delle cose con cui parlavo con un amico imprenditore qualche giorno fa è il fatto che siamo in un periodo dell'anno siamo alla fine del 2020 e in genere verso la fine dell'anno si fanno le pianificazioni cioè addirittura c'è chi pianificava tre anni oggi la pianificazione è costante cioè non è a un anno ma è sì la faccio un anno ma poi la rivedo ogni mese nel senso oggi la pianificazione dobbiamo farla con molta più frequenza a passetti più piccoli perché non sappiamo cosa cambierà da qui a un mese e quindi dobbiamo essere pronti al cambiamento quindi cioè pianificare ma pianificare con in mente il fatto che potrà cambiare questo è sempre più veloce è sempre più frequente e questa cosa non può che aumentare cioè non si tornerà indietro quindi dobbiamo essere sempre più pronti e predisposti a questo cambiamento se guardi insomma i miei genitori hanno vissuto sì dei cambiamenti ma non come praticamente gli ultimi vent'anni cioè come i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi da vent'anni a questa parte ecco le aziende che hanno resistito meglio agli scossoni che il covid ha portato quali sono che caratteristiche hanno cosa hai potuto verificare ad esempio fra i tuoi clienti ma anche dentro la vostra reazione a questo momento ti faccio un esempio noi abbiamo vissuto il periodo del primo lockdown a marzo dove avevamo pianificato organizzato il nostro evento annuale noi facciamo un evento annuale dove portiamo insomma circa 500 aziende ogni anno a conoscere questo mondo ed era ovviamente un evento live cioè un evento fisico abbiamo fatto insomma l'ultimo al pala congressi di Riccione e così via che succede che a poche settimane dall'evento scatta l'impossibilità di fare questo evento quindi quali sono le aziende che sopravvivono quelle più pronte al cambiamento cosa abbiamo fatto non abbiamo assolutamente annullato l'evento ci siamo organizzati abbiamo trasferito tutto online e a marzo quando le aziende le persone si sognavano una roba del genere anzi abbiamo dovuto combattere anche la resistenza mentale nel fare un evento online abbiamo organizzato un evento totalmente online con grande successo e l'abbiamo realizzato in pochissimo tempo perché non c'era tempo per pensare cioè era ok andiamo ma soprattutto andare avanti cioè la mentalità oggi è comunque non è che dici ok c'è un problema mi fermo torno indietro no cioè si va avanti semplicemente cambiano le cose cioè bisogna essere pronti a vedere le cose in modo diverso e questo secondo me perché dicevo il mindset anche prima no perché il mindset è l'aspetto più importante soprattutto da imprenditori siamo anche leader e dobbiamo influenzare almeno cioè le persone che sono sia all'interno dell'azienda sia all'esterno che contano su di noi e quindi bisogna essere un po' il faro di queste persone su questo come sai mi trovi d'accordo perché il caffè è nato proprio come mia reazione durante il lockdown nasce dalla moca che ho riscoperto ma soprattutto dall'esigenza come hai ben detto di non fermarmi di continuare quello scouting delle storie delle imprese di unire l'Italia delle eccellenze l'Italia che vale attraverso questo strumento questo driver che l'intervista proprio perché noi immaginiamo che non si possono mettere insieme le persone a prescindere dalle loro caratteristiche e le caratteristiche delle persone le conosci banalmente intervistandole poi ecco bisogna capire anche come si intervistano le persone qual è il valore che riusciamo ad estrarre ma mi trovi pienamente d'accordo Alessandro su questo passaggio e non posso che testimoniarlo e che rilanciarlo anzi dirò di più quello che sta succedendo in questo momento che io sono qui fisicamente a parlarvi dallo studio televisivo che abbiamo qui a Milano e che il caffè è continuato anche appena siamo diventati da rossi arancio o gialli e quindi è a metà fisico come metà virtuale in questo momento io sono qui nello studio di Milano e Alessandro e a Rimini ma poco fa abbiamo realizzato un caffè con l'ospite qui in studio quindi ecco imparare anche a fare tesoro di quello che un momento di crisi ti genera il caffè non è finito Alessandro anzi da opzione se vogliamo di emergenza è diventata quasi naturale immaginare che doveva continuare anche dopo o comunque in un momento più leggero e proseguire perché no quando torneremo totalmente al mondo di prima e in fondo questa è la lezione che questo momento di crisi ci ha insegnato sapendo che le crisi poi tornano ma dentro le crisi ci sono le opportunità ecco che opportunità vedi per l'Italia che sta per venire in che modo vi state preparando a coglierle Alessandro io vedo che tutte le aziende che lavorano con me stanno crescendo quindi io vedo comunque un cambiamento proprio nell'approccio comunque è cambiato sono cambiate le abitudini delle persone quindi le persone oggi sono molto più online abbiamo visto gli ascolti delle dirette delle trasmissioni che facciamo online comunque avere un incremento un'attenzione maggiore rispetto a prima perché ovviamente siamo più legati a questo strumento tecnologico online e così via quindi le opportunità sono queste sono quelle di sfruttare dei canali che prima erano meno utilizzati la pubblicità online nel già nel 2019 per la prima volta ha superato gli investimenti pubblicitari classici standard quindi sta proprio cambiando il modo in cui si fa business perché il marketing è business se non c'è marketing è inutile che abbiamo un ufficio contabile perché vuol dire che non stiamo vendendo oggi il porta a porta che non si può più fare diventa un porta a porta digitale cioè dobbiamo essere in grado di utilizzare questi canali se abbiamo un'azienda dobbiamo comunque mandarla avanti non possiamo ok fermarci e basta come hai detto tu prima crisi significa opportunità quindi dipende sempre come ci approcciamo alle cose ecco l'altro dibattito aperto un'altra cosa che stiamo provando a cambiare anche il mio essere con te oggi qui qualcuna volta mi dice piano ma ho notato che nel tuo caffè porti anche delle persone che potenzialmente potrebbero essere dei tuoi competito ma sei matto perché lo fai è gente che vende comunicazione come te e perché crescendo si impara che intanto la comunicazione è complessa e servono davvero tante professionalità se no torniamo alla tutologia e poi che anche quando si fanno cose molto vicine e beh forse quelle sono proprio le persone con cui puoi andare più d'accordo puoi fare dei match puoi scambiarti clienti risorse occasioni di lavoro insieme quindi questa è la risposta chiedo a te Alessandro se in questo stiamo cambiando stiamo imparando a dialogare anche di più fra player che stanno se vuoi nello stesso mercato sia pure con dicevo prima specializzazioni diverse ah sì guarda hai detto una cosa molto interessante perché effettivamente anche io e te potenzialmente potremmo essere dei competitor uno dice ma come comunicazione marketing va bene ma in realtà innanzitutto ti faccio i complimenti che ancora non ho avuto modo in questa intervista per quello che fai tu quello che stai facendo e anche il tuo cioè adattamento a questa situazione comunque con questo format con questa finestra con questa possibilità che stai dando alle persone che sono a casa di ascoltare diversi professionisti e imprenditori perché poi questa è comunque una cosa fondamentale ma questo cambiamento cioè il fatto di collaborare è una cosa che io e Michele Tampieri appunto mio socio abbiamo sempre avuto un po' nella nostra diciamo mentalità e l'abbiamo riscontrata in maniera estrema in America perché gli americani sono così gli americani sul palco se io faccio un evento invito tutti i miei competitor tutti i miei amici e fondamentalmente perché? perché diamo valore all'utente quindi il punto non è ah no ti tengo ignorante perché se te sei con me ti leggo a me in modo tale che non puoi più andare via no e ti do tutto il valore che posso perché io tengo al mio cliente quindi l'unione fa la forza io sono specializzato in una cosa insieme possiamo offrire un servizio migliore al cliente all'azienda e quindi solo migliorare tutti insieme cioè questa è la nuova mentalità è la condivisione grazie davvero perché penso ne abbia bisogno il paese e qui lo sai te l'ho già chiesto te lo richiedo qui in diretta perché stiamo via via portando a casa anche queste testimonianze tu sai che stiamo lavorando col caffè che vale a costruire Italia Vale che è un progetto che non solo metterà insieme 400 persone vogliamo fare anche un numero chiuso anche noi perché abbiamo immaginato che mettere insieme delle persone non è tanto metterle insieme ma animarle e soprattutto non deluderle quindi animarle in maniera qualitativa portarle a convention che non deludono a webinar che non deludono organizzare tutta l'attività di tenere insieme le persone portando valore a queste persone e però attenzione chiedendo loro anche di portare valore non possono esistere associazioni di categoria dove si entra per prendere quella è già una sconfitta quindi noi i nostri associati li stiamo scegliendo uno ad uno proprio attraverso queste interviste conoscendo le persone utilizzando un metodo ecco però l'altra parte che stiamo cercando di fare Alessandro e qui ti chiedo davvero darci una mano perché tu stai lì San Marino è interessante tutto il mondo che c'è attorno a San Marino parliamo di una regione importante in termini anche di produttività italiana quale l'Emilia Romagna per quanto tecnicamente San Marino sarebbe uno stato a sé qui magari facciamo anche i figli e diventiamo internazionali a parte che ormai con questo progetto pensiamo globale in maniera nativa così come digitale ma ti chiedo quanto è importante perché così lo vorremmo fare sapere che Italia Vale avrà 20 professionisti dell'Italia che vale in Sicilia che ne so 10 in Calabria 30 in Puglia e via così fino al Piemonte cioè lo sforzo in più che stiamo facendo è non creare semplicemente delle persone in un luogo ma provare a distribuirla in tutto il paese perché ci sembra che questa sia la contaminazione migliore e poi perché in questo modo ci sembra di fare qualcosa anche come il paese per il paese ti chiedo come la vedi visto che ti occupi di marketing e questa per noi è davvero anche una scelta se vuoi di marketing il valore aggiunto che vedi ecco non te l'ho chiesto neanche in privato ancora perché il progetto è talmente giovane che ne approfitto qui beh guarda grazie innanzitutto ma il valore aggiunto lo vedo sì cioè come marketing ma anche come imprenditore Piero perché il concetto è che quello che tu stai facendo è un lavoro che normalmente deve fare l'imprenditore da solo mentre questo fatto di andare a prendere dei professionisti selezionarli in qualche modo testarli per l'imprenditore quindi sapere che l'imprenditore che viene trova già dei professionisti con una certa mentalità cioè che condividono comunque il fatto di dare valore all'azienda e portare risultati quindi condividono anche magari una sorta di etica secondo me è un lavoro fondamentale perché tutt'oggi anch'io ma tutte le aziende combattiamo per cercare dei professionisti validi come anche te Piero cioè in ogni ambito che vogliamo su cui vogliamo migliorare perché tanto qua si migliora sempre c'è sempre qualcosa da imparare ogni giorno ci ritroviamo di fronte a ok questa cosa adesso non so da dove partire mi metto alla ricerca ma che facciamo investiamo per testare prendiamo magari una fregatura passami il termine andiamo avanti ne testiamo un'altra e così via ecco quello che tu fai chiaramente accorcia questo processo ci permette permette alle aziende di diciamo andare un po' più sul sicuro rispetto a cercare nel vuoto siamo davvero alle battute finali devo chiederti il tuo rapporto col caffè non prima di aver ringraziato il nostro sponsor che è anche uno sponsor ideale perché sta facendo questa battaglia per distribuire il caffè italiano nel mondo si chiama 101 caffè ha già generato cento e più punti vendita in Italia Umberto Gonnella ha lanciato la sfida all'estero e noi gli siamo accanto perché è davvero un bel esempio dell'Italia che vale spot e poi torno da Alessandro Bentivoglio stiamo parlando di Funnel Company che è la sua azienda ma è anche il suo metodo di lavoro dentro quest'area così delicata che è il digital marketing o mia bella madonina che te brilli lege lontan tu t'adore e t'iscinina ti te domine e mila sotta ti se vive la vita se sta mai con i mani in man canten tu lontan de Napoli e se bere mammi la leongra mila eccoci Alessandro allora non posso che chiederti qual è il tuo rapporto col caffè con la tazzina di caffè è un rapporto di amore è un rapporto che insomma ti fa in qualche modo rilassare un po' staccare da da questo schermo perché d'altra parte la mia vita purtroppo è sempre qui davanti al computer quindi questo è un po' il rapporto con il caffè come lo preferisci dolce amaro lungo macchiato ecco questa è la cosa bella degli italiani no? cioè perché quando vai al bar ah no cioè se sei in quattro vai al bar sono quattro caffè diversi vai all'estero sono tutti uguali io purtroppo sono un po' monotono noioso perché io prendo un caffè normale senza zucchero quindi amaro ecco si vede che hai frequentato da giovane l'America meno male che almeno non mi hai detto quello lungo alla Starbucks per intendersi per intenderci all'americana insomma ecco ho citato anche un brand che ha fatto uno dei suoi punti di forza proprio nella capacità di distribuzione bene siamo arrivati è stata una bella cavalcata vi abbiamo fatto scoprire questo mondo che Alessandro chiaramente rappresenta insieme al suo socio e co-founder che è appunto Michele Tampieri poi magari in un'altra occasione avremo modo anche di conoscere Michele e a cosa state lavorando Alessandro quali sono i prossimi match e qual è l'obiettivo importante che siamo ormai alla fine di questo anno che state scrivendo per i primi giorni dell'anno che verrà allora quello su cui stiamo lavorando è un metodo ancora più diciamo strutturato per seguire le aziende e l'aumento di quello che è il team perché chiaramente l'aspetto più importante cioè il nostro prodotto sono le persone cioè i consulenti i coach che seguono le aziende quindi stiamo lavorando sempre di più sul prodotto anche se poi chiaramente noi invitiamo le persone a non lavorare sul prodotto ma sul marketing però per noi è comunque rimane un aspetto molto importante quindi il prodotto inteso come metodo per aiutare le aziende che sia sempre al passo con i tempi sempre eccellente e per fare questo abbiamo e stiamo fornendo anche un sistema tecnologico quindi un software una struttura che ci permetta di avere un quadro dell'azienda in tempo reale di tutto quello che accade marketing e il sistema che andiamo a creare bene mi raccomando noi vi sceglieremo già adesso ma insomma tutto il come dire l'ulteriore qualità e il valore aggiunto che aggiungerete nelle prossime ore nei prossimi giorni sarà un vantaggio in più anche per tutti i nostri imprenditori dell'Italia che vale a cui offriamo esattamente queste cose queste consulenze queste competenze questa appunto Italia di valore questi caffè che via via stanno diventando qualcosa di più un mondo che promette a un pezzo dell'Italia di lavorare per tutto il resto dell'Italia perché si possano creare dei modelli perché io sono convinto che l'Italia deve passare da modelli individuali di successo che appartengono ormai alla narrazione che abbiamo visto e che io stesso ho contribuito a fare a modelli di narrazione di sistemi aziendali di successo perché l'Italia lo merita e perché credo che anche in questo se ci mettiamo a lavorare in squadra davvero possiamo lavorare meglio e affrontare di più le sfide globali grazie Alessandro e ci sentiamo davvero molto presto anche perché dobbiamo fare un po' di cose insieme ecco il tempo è il mio timer che scade dicevo ci vediamo molto presto auguriamoci insomma che gennaio apra un po' più le porte per cui il digitale continuerà però insomma anche una tazzina di caffè live averti in studio qui con me magari alla prima prossima occasione insieme a Michele potrebbe anzi certamente sarà un'esperienza importante a presto molto volentieri grazie a te Piero e grazie a tutti un caffè che vale espresso scende moca sale serve a farci avere quella marcia in più un caffè che vale senza esagerare serve a questa Italia per tenersi su un caffè che vale rito nazionale è un caffè che vale grazie a te grazie a te